Sarà diretta da Luca De Angeli di Milano la gara dell'uscita contro il Catania, domenica prossima alle ore 18.30, match valevole per la prima giornata di ritorno della Serie C. Il Crotone, dopo la lunga pausa natalizia, è tornata presso il proprio centro sportivo per preparare questa grande sfida, la prima del girone di ritorno. L'obiettivo è quello di continuare a lavorare, di continuare a cercare di fare bene quando vengo chiamato in causa. Sono contento della domanda, però qua secondo me nessuno è indispensabile, siamo tutti giocatori forti. Io sono contento di giocare, ma devo continuare a meritarmi di scendere in campo dall'inizio alla domenica. Si torna in campo subito con il match all'uscita contro il Catania. È una gara difficile, a parte che è facile e non ce ne sono, però giochiamo contro una squadra forte che a inizio anno è partita, era partita tra una di quelle che doveva vincere il campionato e secondo me stanno tutti ancora in tempo perché il giorno di ritorno è tutta un'altra storia, però giocano due squadre forti contro perché anche noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e non vediamo l'ora di scendere in campo e fare questo big match. Si torna in campo subito con il big match all'uscita contro il Catania? No, ma il Crotone secondo me ci deve arrivare con la consapevolezza, come ho detto prima, che lo abbiamo dimostrato in tutte le partite e anche con le grandi che possiamo giocare proprio in maniera tranquilla e dobbiamo scendere in campo con questa consapevolezza, con la consapevolezza che incontriamo un avversario forte che sta in ripresa, che sta in fiducia perché vincere a Benevento non è facile, però noi già siamo mentalizzati e già ci stiamo preparando per questo. La prima gara dopo la lunga pausa natalizia, chiudendo il 2023 il gerone di andata, con una pesante sconfitta in casa? No, per me, come ho detto prima, è importante, è molto importante, sono contento e ho detto che devo continuare a lavorare e continuare a cercare di migliorarmi sempre di più con gli allenamenti e partita dopo partita. Con 1600 minuti giocati in squadra, Alessio Tribuzzi è uno dei pilastri di questa stagione. Speriamo, 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 no, ma l'importante è che domenica portiamo a casa i tre punti. Due gol in stagione, di cui uno in Coppa e adesso bisogna ritrovare la rete. Sì, diciamo che con l'Avellino non è stata la nostra, diciamo, miglior partita, però comunque abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra molto forte e abbiamo avuto occasioni anche noi per pareggiare, loro hanno avuto l'occasione per raddoppiare, è stata una partita a viso aperto che secondo me alla fine poteva tranquillamente finire in pareggio. Però è andata così, secondo me noi dobbiamo continuare come abbiamo finito le ultime dieci, perché quello è un dato di marcia importante e noi dobbiamo continuare a cercare di fare più risultati utili consecutivi per cercare di rimanere scia nei posti alti. La squadra può giocarsela contro tutti, anche se in casa contro l'Avellino, c'è stato qualche passo indietro. Adesso bisogna mettere la marcia giusta e dare un'impronta decisa al campionato. Alessio Tribuzzi, possiamo dire, è uno dei leader della squadra. No, come ho detto prima, guarda, quest'anno veramente siamo un gruppo di tanti ragazzi e tanti ragazzi anche giovani e siamo un grande gruppo e nello spogliatoio siamo benissimo, quindi diciamo che secondo me veri e propri leader non è che ce ne sono, perché ripeto, siamo un gruppo unito, secondo me siamo tutti importanti e quindi questo è importante. Grazie a tutti.